Universia di Taipei 2017, Tocci bronzo dai 3M, gara stellare L'Italia dei tuffi torna sul podio alle universiadi in corso di svolgimento a Taipei. Giovanni Tocci, protagonista senza l'oro da un metro, incanta dal trampolino più alto, tanto da avvicinare la coppia russa Zakharov-Nenokuznetsov. . In una gara olimpica, un biglietto da visita importante, un'iniezione di fiducia per dare il Lala rincorsa a 5 cerchi, destinata a trovare il suo epilogo a Tokyo nel 2020. . La vittoria va a Dilia Zakharov, già al comando di eliminatoria e semifinale. Basta scorrere il punteggio dei singoli tuffi per dare la portata della prova del campione rosso. . Zakharov scende solo una volta sotto gli 80 punti, complice un coefficiente non elevato, 3.1, accarezza la barriera dei 100 alla seconda tornata, per poi infrangerla al tramonto con il suo marchio di fabbrica, il quadruplo e mezzo raggruppato. . 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